Ciao a tutti e benvenuti sul canale, oggi parliamo di Lilia per l'ultima volta prima di andarla a giocare ovvero senza starvi a far vedere tutte le robe sulle quali si è discusso in questi giorni vi dico direttamente la cosa che vi interessa Lilia, che è quella che vedete qua, questa è una splash art ricomposta fra delle immagini che sono liccate durante queste settimane e Lilia uscirà il 22 luglio sui server normali e quindi molto probabilmente arriverà sul PBE fra la notte di domani e mercoledì mattina perciò se volete giocarla sul PBE fra la notte di domani e mercoledì mattina molto probabilmente potrete io però sarò in vacanza, quindi se volete giocare con me Lilia e partecipare al video che farò su Lilia giovedì quando tornerò dalle vacanze, giovedì sera potremmo vederci tutti sul PBE e fare tutti insieme un bel video su Lilia spero che questa cosa vi piaccia per farlo basta che mettiate nei commenti il nome del vostro account PBE io vi aggiungerò e poi giovedì alle 21 inizieremo a provare a fare il video su Lilia idealmente vorrei fare una custom, quindi se siamo 10 possiamo fare un 5 contro 5 e due di noi possono giocare Lilia uno sarò io per fare il video e l'altro dell'altra squadra può giocare Lilia in giungla intanto vi ringrazio, vi faccio vedere che questa che vedete qua è la splash art di Lilia che praticamente è un incrocio fra Nico e Ekarim praticamente a quanto pare dovrebbe essere così però ovviamente queste immagini come avevo detto è un montaggio di varie immagini due immagini che sono trapelate e quindi non è sicuro al 100.000% che sia proprio questa ma vedrete che più o meno sarà questa perciò spero di avervi dato tutte le informazioni utili mi raccomando giovedì sera alle 21 faremo il video tutti insieme quindi mandatemi nei commenti i vostri nick del vostro account PBE così vi posso aggiungere e giovedì alle 21 facciamo il video tutti insieme grazie mille a tutti ragazzi, ci vediamo alla prossima